Francesco Cavazzi, ciclista valtenese di 31 anni, dell'Androne Sidermec, ha fatto scalpore per una sua frase postata sui social. Il ciclista, per non aver digerito l'arbitraggio di Paolo Silvio Mazzoleni, durante la partita di Serie A Fiorentina-Inter, che si è conclusa con una vittoria di Viola per 2-1. L'arbitro, colpevole di aver espulso due giocatori interisti e con una performance che ha lasciato insoddisfatti parecchi tifosi nero-azzurri, si è guadagnato un posto al veleno dal noto ciclista. Ecco a voi, l'imbarazzante uomo di... che non dovrebbe arbitrare nemmeno in seconda categoria, sparati in bocca. Queste le parole di Cavazzi contro Mazzoleni, che ovviamente hanno fatto il giro del web e hanno raccolto una montagna di critica dagli utenti dei social. Una valanga di commenti negativi è infatti travolto alla pagina di Francesco Cavazzi, che dopo qualche ora ha pensato bene di correre i ripari, rimuovendo il post e scrivendo sempre via social. Mi scuso per il tweet di ieri, ho sicuramente usato parole fuori luogo e offensive, preso dalla foga del momento, chiedo venia. Sembra quindi rientrata la polemica di Cavazzi contro Mazzoleni. Da parte dell'arbitro nessun commento. Buffera rientrata dunque?